Ecco appunto come poi abbiamo potuto evidenziare durante questo incontro molto proficuo da parte di Etammeral Party, noi abbiamo specificato che la nostra non è un'azienda di carattere prettamente speculativo. Per noi la cura del cliente è un aspetto veramente importante, avere dei clienti consapevoli e dare a loro tutti gli strumenti necessari per fare delle scelte consapevoli sono a mio avviso la chiave di lettura per parlare anche dei clienti contenti e per avere degli sviluppi futuri da ambo le parti.